Buona domenica a tutti! Oggi è il 23 di ottobre e che cosa si fa durante una giornata un po' uggiosa? Si studia e si prepara per la settimana a venire e si fanno anche tante riflessioni perché nella realtà dei fatti è proprio grazie alle prime centrature che ho iniziato a fare sul MIB se piano piano sono riuscito ad andare oltre la ciclica di base per arrivare poi pian piano con tanto studio e tanta costanza all'evoluta. All'inizio mi ascoltavo quello che mi veniva detto perché la materia era nuova, perché era differente ancora rispetto alla mera di Hearst perché c'era il migliorino, perché c'erano ancora tante cose, eravamo veramente agli inizi, sono tantissimi anni fa ed eravamo un po' dei pionieri, anche perché non c'erano attrezzature come questa, come TradingView per fare i grafici e tutto il resto. Io cercavo di ricordarmeli e di farmi delle centrature e poi a un certo punto sono cambiate le cose. Cambiando le cose però si può arrivare ad apprendere una materia come la ciclica base e poi l'evoluta molto più rapidamente rispetto a come si può fare in altri modi, a come si poteva fare un tempo. E la cosa bella è proprio quella che se si forma un gruppo di persone che ha un unico obiettivo, quello di guadagnare, non di fare la centratura migliore, e le si forma a partire da un metodo unico, un metodo statistico, matematico, apprendibile e non discrezionale, poi chi viene formato può superare il formatore, giusto? Perché può continuare a studiare, può avere più tempo per studiare, per fare le cose, e può decidere se collaborare in un gruppo, se apportare le sue idee, oppure se fare la sua strada da solo e isolarsi come è successo a certi guru del passato, che poi non hanno fatto una grandissima fine. Ma a noi non interessa parlare di questo, interessa ragionare di una cosa. A partire da Bitcoin, quando si allarga tanto la visibilità sui cicli, e quando c'è un tonfo così forte come quello avvenuto nel marzo 2020, ci possono essere tante centrature allo stesso momento, che hanno bisogno di essere comprovate e che possono temporaneamente coesistere allo stesso momento. Adesso, sul suggerimento di alcuni trader che appunto sono stati informati, adesso sanno dire la loro e collaboreranno con me all'evoluzione dell'evoluta, a controlli ancora più incrociati su quelli che sono gli indici, che magari io non riesco a fare costantemente, potremmo capire se siamo di fronte a un raccordo, nonostante la violazione di swing importanti, o è già partito un annuale vincolato a ribasso. Dato che, come di consueto, quando non c'è certezza, noi ci muoviamo con i piedi di piombo, perché non vogliamo andare a perdere soldi, la prima regola del trader è non perdere soldi, perché poi non si è più capitalizzati. Bisogna partire capitalizzati e poi perdere il meno possibile e guadagnare il più possibile. Ecco, noi come di consueto partiremmo dagli swing e dai movimenti di breve, inquadrati nell'ottica di medio periodo, lungo periodo, come di questi cicli. Vi faccio notare una cosa, anche se non ho avuto il tempo per controllarla. Con 7 barre sopra questo minimo, da qui potrebbe essere partito il secondo mensile, che potrebbe essersi chiuso qui, a 36 barre. Poi abbiamo fatto un raccordo, guarda tu, di grado T settimanale tra un T più 3 da oltre 48 barre quotidiane ed un potenziale nuovo T più 3 e da qui è partito appunto il nuovo T più 2. Se manteniamo la mia centratura vecchia, questa, è la stessa identica cosa. Bisogna soltanto andare poi a livello di sotto cicli a vedere che questo non sia effettivamente un raccordo. Bisogna riscomporre questa parte, ma a noi che cosa interessa? Qual è l'obiettivo primario del gruppo premium, del gruppo di trader che ha voglia di collaborare con me e del circolo virtuoso? Fare la centratura migliore o dire ok, questa possiamo finirla come vogliamo. Intanto questo rimane in ogni caso un T più 3 o anche solo questo rimane un T più 3 e da qui parte un nuovo T più 3, ovvero un nuovo trimestrale. Ci interessa la scomposizione di questa parte. Se a qualcuno interessa tempo, la faccia, controlli, funziona perfettamente come l'abbiamo fatta. Perfettamente. Ok? Scusate, perfettamente. Primo mensile, raccordo di grado T meno 1 tra un mensile e l'altro, altro mensile e chiusura. Altro mensile che funziona perché? Perché anche se siamo andati qui sotto a 20.191 invece che andare sotto i 20.183 abbiamo marcato visita per la vecchia ciclica di 8 punti, 8 tic. Nella realtà dei fatti, per l'evoluta, il conto è in realtà abbastanza poco. Siamo rimasti comunque sotto questo minimo che è la condizione necessaria e sufficiente per far chiudere proprio non soltanto questo mensile ma anche tutto il resto. Anche perché qui, con questo minimo, siamo andati sotto il minimo di partenza del T3. Quindi con le volute è ancora più semplice. Scegliete la centratura che desiderate ma facciamo una cosa, iniziamo a considerare cosa sta arrivando. Perché intanto, una o l'altra, è la stessa cosa. da questo minimo, da quello del 13 di ottobre, sta partendo un nuovo ciclo T3. Sta funzionando il disegno che ho fatto e che ho voglia di cancellare perché come al solito mi copre tutto il resto del grafico? Sì. Siamo scesi, abbiamo fatto questa candela rossa e poi siamo risaliti e che cosa è successo? Uno, due, e tre. Stiamo provando a ritornare qui sopra, sopra al massimo a 21.827. Oh, fine. Non ci sono molte altre cose da raccontarsi. Risemplifico con questa che così è fuori dal grafico e non ci dà fastidio. A livello di inverso, a che punto siamo? Primo, mensile inverso da 35 bar può averlo fatto chiuso qua? No, 45 e oltre. Può averlo chiuso da altre parti prima? Tipo qui a 29? No, non c'è la condizione per la chiusura di un T2 inverso, ovvero di un ciclo mensile inverso qui. Quindi, prendiamo per buona questa, secondo mensile inverso e questo è secondo mensile inverso che parte da massimi, scende su minimi e torna su massimi e si è già vincolato e continua a salire. Fine del discorso. Quindi, noi che cosa facciamo mediamente? Quando si tocca un minimo e si è scesi per andare a chiudere determinati cicli, per dire in questo caso su questo minimo si può essere chiuso a 6 giorni più un giorno del nuovo ciclo, il nostro primo settimanale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimo partito il nuovo settimanale. E qui, noi possiamo valutare specialmente di nuovo in violazione dei 21.827 di tornare a metterci long. Per quanto tempo? È un mensile inverso, dura minimo 24 barre. Per quanti giorni, quindi, possiamo ancora aspettarci alzo e aggiornamento dei massimi? Almeno 11 giorni per arrivare a 24 e quindi arrivare fino al 7 di novembre. che cosa ci può ostacolare per salire? La media mobile su cui abbiamo avuto 1, 2, 3 tentativi di salire che però ci ha fermato. Bella però questo hammer che potrebbe far ripartire a salire il grafico. Abbiamo il livello inferiore della cumo, il livello superiore della cumo dovunque si troverà quando ci arriverà e poi c'è spazio. E poi c'è spazio. Ma attenzione, cosa serve a partire o soltanto un nuovo mensile perché potremmo avere un 3 tempi primo mensile con un raccordo tra mensile e mensile secondo mensile terzo mensile che fa un trimestrale a 3 tempi. Ci sta un trimestrale a 3 tempi? 24 meno 7 fa 17 17 più 70 fa 87 ci arriveremo eventualmente con un raccordo. Quindi iniziamo a ragionare del fatto che forse qui abbiamo violato già un bello swing da qui può partire un t più 3 un altro il secondo trimestrale dopo il primo trimestrale proverà a spingere soprattutto all'inizio il più forte possibile verso l'alto e poi vedremo di che basta è fatto perché se non supereremmo determinati massimi andando a chiudere peraltro l'annuale inverso l'annuale inverso è partito da qua eh non aggiorno mai più tantissimo i giorni quando andiamo oltre i 192 che sono i giorni minimi siamo già a 204 barre su minimo 192 quindi siamo già serenamente abbiamo qui abbiamo tranquillamente un annuale inverso fatto di un primo semestrale e di un secondo semestrale che è arrivato a quanti giorni e che cosa richiede per chiudere un annuale inverso tra l'altro è arrivato a 103 giorni quindi è già un semestrale pieno sì sì certo come abbiamo tempo fino a 168 giorni per per fare che cosa soprattutto per andare a fare una cosa interessante ovvero trovare la chiusura dell'annuale stesso annuale inverso è sempre e cosa richiede un annuale inverso per chiudere un sottociclo di 3 gradi inferiori ribassista ovvero per l'inverso che spinga i corsi verso l'alto per adesso direi che il mensile incriminato potrebbe proprio essere questo e quindi per altri 11 giorni potremmo andare a cercare un top prima di andare a scendere giù per minimo 11 giorni perché è sempre la durata minima che io vado a prendere per avvisare poi informare che si può invertire la rotta questo è il programma per i prossimi giorni vi fa piacere sapere che per le prossime 3 settimane dovreste valutare orientativamente sempre dei long soprattutto se si scende e se non si va sotto determinati alti swing e si prosegue a salire quindi potete controllarlo di giorno in giorno è un'informazione utile quella che vi sto dando mi auguro di sì qui peraltro abbiamo trovato una lateralizzazione spaventosa compreso un movimento brusco di venerdì per andare a chiudere un t-1 sembra soltanto non riesco a trovare però una centratura differente da questa con un sesto t-3 che chiuda qui però non posso non tenere conto che qui ne abbiamo avuti 6 ok non posso 6 barre contano di più di una centratura fatta sui t-3 per cui ricontinuerò a darci un'occhiata sapendo che da qui potrebbe già essere in partenza settimanale controllando gli swing per la partenza del settimanale stesso ovvio tra l'altro che se andassimo a violare questo massimo quello a 21.827 punti tutto il settimanale inverso quello che ne rimane continuerebbe a spingere verso l'alto e torna a livello come si chiama di inversi anche qui 1 2 3 candele se vado in violazione con la quarta vengo sparato ancora su per tutto il resto della durata di un t settimanale inverso perché qui si può essere andati avanti oltre le 10 bar e se è a 13 bar di un settimanale ma assolutamente no quindi il punto fermo è proprio questo questo massimo a 21.827 e se è violato ci proietterà trovare nuovi massimi così si ragiona con un metodo statistico matematico avrete sempre in questo canale poca fuffa zero opinioni nessuna interpretazione della parte destra del grafico che non esiste e soltanto indicazioni chiare per tutti anche per chi non conosce l'evoluta o la ciclica per capire che se si sale sopra qui al quarto giorno si può salire come minimo per altri due giorni non è che ci vada una scienza infusa ok bisogna soltanto studiare un pochino e a quel punto tranne che cosa giovamento perché non esistono scorciatoie non esiste che con cinque minuti al giorno senza sapere niente fidandomi di qualcuno diventerò ricco o avrò entrate aggiuntive oltre al mio stipendio che tra l'altro in realtà io faccio proprio trading e vivo di quello per cui è già una stupidaggine per me in termini reali ma a parte quello o vi impegnate o non andrete da nessuna parte nel trading come nella vita questo ve lo posso assicurare ci può essere poi la fortuna ma ragazzi io non ho mai contato su quella non so voi vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida domenica arrivederci